Da oggi, in Russia, c'è censura totale. Il nuovo emendamento è appena stato approvato dal Parlamento, per cui tutte le informazioni sulla guerra in Ucraina, che non siano di fonte governativa, saranno considerate false. E la punizione potrà andare dai 3 ai 15 anni di carcere. Le autorità russe hanno proibito ai giornalisti l'uso di parole come guerra, invasione e attacco. Se vogliamo parlare di quello che succede in Ucraina, dobbiamo scrivere operazione speciale, ma io non l'ho fatto. E per questo il mio giornale è stato chiuso. All'improvviso ci siamo ritrovati in un paese chiuso, con una censura soffocante, bandito dal resto del mondo. Siamo di nuovo dietro ad una cortina di ferro. Ma Putin ha ancora il sostegno della popolazione? Sì, ce l'ha. Anche se è difficile dire quanto sia grande, perché non abbiamo sondaggi indipendenti. Del resto, tutti i media governativi stanno dicendo che la Russia non ha invaso l'Ucraina, che non sta bombardando le città, ma che stiamo salvando il popolo ucraino dai nazionalisti, dai nazisti. Sono tutte bugie. Ma la maggior parte della popolazione vive in piccole città e in villaggi. Non parla nessuna lingua straniera e non ha accesso a Internet. Per questo crede alle bugie che arrivano dai canali di Stato. Lei perché ha deciso di rimanere? Perché questo è il mio paese e qualcuno deve continuare a informare. Noi giornalisti abbiamo una responsabilità verso gli altri. Devo continuare a fare il mio lavoro, a spiegare quello che succede. Certo, non voglio andare in prigione, ma a volte non ci si può fare niente, non dipende da te. È quello che succede. Domani mattina mi siederò a questa scrivania e scriverò, come ho sempre fatto. Quando vado a dormire, so che la mattina dopo la polizia potrebbe bussare alla mia porta. Per questo ho preparato una borsa con dei vestiti. Sono pronta. Potrebbero venire in ogni momento ad arrestarmi. Non siate ciechi. È un dittatore. È un uomo pericoloso. Pterà la guerra in Europa. L'Ucraina è solo il primo esempio. Se nessuno lo fermerà, Putin andrà avanti. Stiamo parlando di Europa. E il prezzo che l'Occidente pagherà per la sua cicità sarà enorme.